Certo, quello che accade alle primarie del Partito Democratico a Napoli e dintorni è veramente surreale. Non so, posso fare una proposta, visto che Renzi ama i commissariamenti, ci proponiamo a fare i commissari, insomma, di tutto quello che accade. Perché io avevo espresso parole di apprezzamento e continuo a manifestarle nei confronti dei tanti cittadini italiani che correttamente hanno partecipato alle primarie. Io trovo che ogni partecipazione democratica, voi online, voi con le primarie, ancora più belle quelle che si fanno al voto nei seggi, sono belle. Quando vengono inquinate da pochi episodi, non lo so a questo punto, perché a Napoli è la terza volta, fatti molto gravi, addirittura come sembrerebbe da questo servizio, tra l'altro fatto da professionisti, utilizzando immigrati. Quindi è davvero una pagina ignobile. E per come sono accadute le cose in quel partito negli ultimi tempi, ho il legittimo sospetto che non sia un caso isolato. Devo essere sincero. Quindi così come continuo a manifestare apprezzamento per le centinaia di migliaia di persone che sono convinte che sono andate a votare correttamente alle primarie e sono quindi le prime vittime di questo, continuo a ritenere che c'è in quel partito molta gente che lavora in modo assolutamente antitetico a quella questione morale che spesso anche all'interno di quel partito declamano a chiacchiere ma non con i fatti. Grazie.